Due mesi che sta così, guardate, c'è stato un incidente, sembra con un furgone, questo chiaramente non lo sappiamo, però non capiamo veramente la situazione, com'è rimasto qua tutto buttato, è una situazione veramente, tra l'altro è veramente pericolosissima, qua c'è un precipizio, che aspettiamo? Assurdo, il Postinano News qui è sempre sul posto, per lui la sicurezza è stradale, è al primo posto.